Guardate che meraviglia il diffusore per ambiente con la sinergia pieno respiro è una miscela di oli essenziali puri naturali al 100% con eucalipto, timo e così via ad azione balsamica che favorisce il respiro e il benessere delle vie aeree superiori indicata negli ambienti chiusi o affollati come casa, uffici oppure ambienti condivisi in particolare nella stagione fredda in cui il ricambio d'aria è meno frequente guardate che meraviglia, potete fissare un colore solo, il vostro colore preferito oppure fare in modo che cambia a continuazione colore così si spegne, così si accende guardate quanto è bello guardate che meraviglia l'effetto è veramente molto molto bello guardate come cambia colore, è una vera vera chicca